Posizione di attesa. Le possibilità, è giusto chiarirlo, non sono tantissime. Il Casarano però ha scelto di stare ugualmente alla finestra. Vuole capire sino in fondo se potrà nei prossimi giorni aprirsi anche un piccolo spiraglio in cui infilarsi circa la possibilità di partecipare alla prossima Serie C. La riforma dei campionati a quanto pare troverà posto nella scaletta dei vertici del calcio italiano soltanto tra un anno e dovrebbe entrare in vigore nella stagione sportiva 2021-2022. Resta a disposizione come strada percorribile quella del ripescaggio anche se ci sono classifiche alla mano, società che hanno priorità rispetto ai rossazzurri. Se ne saprà di più circa i criteri per le graduatorie al termine del Consiglio federale del prossimo 8 giugno. Ecco perché per il momento il direttore sportivo Marcello Pitino preferisce non sbilanciarsi più di tanto. Adesso si fanno solo supposizioni, si fanno delle ipotetiche possibilità di... Ad oggi la certezza è che il giorno 8, rinviato un'altra volta il Consiglio federale, probabilmente ci daranno delle indicazioni su cui uno si potrà muovere. Certezze oggi non ce n'è, quindi qualsiasi cosa si dice oggi non può essere assolutamente valutata. Il futuro del Caserano resta aperto a diversi scenari, congelate anche le questioni che riguardano gli aspetti tecnici. Noi in generale ci siamo aggiornati con la società dopo il Consiglio federale. Non abbiamo assolutamente valutato nessuna situazione tecnica ad oggi, avendo la precedenza tutto ciò che eventualmente ci sarà dal punto di vista del campionato da disputare. Quindi nessuno si fa delle illusioni, però ad oggi non è stata fatta nessuna valutazione. Ci sentiamo con il Presidente, con la società, perché i rapporti sono ottimi, però ci dobbiamo sedere per valutare ciò che si dovrà fare appena ci saranno date le indicazioni giuste da fare.